Nelle notti d'estate a Verbania si riaccendono i riflettori sui maestosi palcoscenici di marmo e granito Torna a stupirvi, Tones on the Stones Ballata per il Popolo delle Cave, opera multimediale in prima esecuzione assoluta Macbeth di William Shakespeare con Elena Bucci e Marcos Grosso Marcos Miller presenta Due to Revisited, The Music of Miles Davis Fuego Chitano, Passioni Muerte, Musica, Danza e Teatro per raccontare la vera storia di Carmen con la partecipazione straordinaria di Gianmarco Tognazzi Tones on the Stones, dal cuore della pietra Un mondo di emozioni